Boccaloni, domani sconfiggeremo una minaccia quasi impossibile da sconfiggere. Potete cercare di evitarla quanto volete, ma lei prima o poi coglie tutti. In particolare i protagonisti di questo film credono di poterla sconfiggere usando dei semplici trucchetti. Ah, che boccaloni! Se avete capito di che film sto parlando, scrivete il titolo nei commenti, altrimenti scrivete sono un boccalone immortale e poi tornate domani per incontrare la vostra fine. Grazie per la visione!